Eccoci bentornati su Go Games, siamo su Zelda Tears of the Kingdom e in questo video andremo a fare un'altra secondaria per ottenere un nuovo arco, l'arco di Tulin sostanzialmente, quindi ci troviamo qui nel borgo dei Rito, proprio in questo punto, se avete sbloccato questo sacrario potrete arrivare qui tranquillamente con il teletrasporto e da qui vi faccio vedere il percorso che dobbiamo fare per andare ad attivare questa. Grazie a tutti. Eccoci qui, c'è da salire un po', parliamo con Teba. Grazie a tutti. Per quanto riguarda i diamanti, anche qui molto molto semplice, andate alla città dei Goron e acquistateli per mille rupie l'uno dal mercante che troverete qui. Per quanto riguarda l'arco vi faccio vedere dove dobbiamo andare per trovare quest'arco. Mettiamo un puntino proprio qui, vi zoomo meglio, esattamente in questo punto, prendete come punto di riferimento questo simbolo marrone, insomma questo rettangolo marrone e posizionate la puntina qui. Quindi ci spostiamo qui alla torre del pianavoso, ci lanciamo e arriviamo volando. Faccio questo per chiunque non abbia i congegni Zonao, per costruire la classica Vespetta per spostarsi facilmente. Se potete ovviamente arrivateci in maniera più facile come ogni cosa il gioco vi dimostra, insomma qualsiasi cosa si può fare in maniera più facile e veloce. Questo lo faccio esclusivamente per chi non ha ancora i congegni Zonao. Questa è una volta che si può fare in maniera più facile, è un'altra volta che si può fare in maniera più facile. Questa è una volta che si può fare in maniera più facile, è un'altra volta che si può fare in maniera più facile. Questa è una volta che si può fare in maniera più facile, è un'altra volta che si può fare in maniera più facile. Arrivati qui, magari mettetevi qualcosa per coprirvi dal freddo, non fate come faccio io. Diamo fuoco a questo blocco di ghiaccio qui. Sì Ovviamente anche qui potete velocizzare la cosa utilizzando l'arco come vi pare a voi insomma Detto ciò fate spazio nell'inventario io penso che dovrò farlo esattamente Arco rondine Una volta che abbiamo trovato l'arco rondine e che abbiamo preso i tre diamanti e i cinque fasci di legna Possiamo tornare da Tebba quindi ci teletrasportiamo qui E ci rifacciamo ovviamente tutto il percorso E ci rifacciamo ovviamente E ci rifacciamo ovviamente E ci rifacciamo ovviamente Ed eccolo qui arco aquila anche quest'arco spara una raffica di tre Perfetto giovani andiamo a vedere l'arco Eccolo qui Bellissimo Veramente stupendo quest'arco E direi che per questo video è tutto Grazie mille alla prossima